via via perché vada lascialo andare su lascialo andare su lascialo andare vedi che adesso prendi l'aria in corsa spampi arrivi su a 300 all'ora da qua e secondo me se vai lì a girare e anche da lì si muove vai peserai vai piano però non gasare piano alto vai adesso vai così peserà bene il problema è che non sta in equilibrio il problema è che stanno anche in piedi lui è così eh no ma va su, va su, apri, apri che vai è una cazzata lì lì anche lì, anche lì argo qua devi andare su forte dritto adesso è fatta, arrivi su di lì dove sei te vai via sei già su, non bevi ma qua devi andare su veloce però no, se ti fermi sei finito così che la pianta non c'è lì ma devi venire dove sono io devi sfruttare l'estiligno ma lì che su ma questa no, è questa la più brutta metti giù piede e la giri una bella terza piena guarda questo bastardo Vitto va al bastardo e si è messa eh, devo metterla giù sta piano perché la devo far morire figa, guarda quante ce ne sono fa niente, ascolta lei perché si deve meritare di morire che era lì solo nel posto sbagliato, cazzo mi sono giocato 100.000 euro per te ho già per i che persi Frank, dagli già da lì eh devi venire su veloce vai 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 apri basta vai via dritto no ma se vieni su forti vai via con la tua che c'è anche una bella trazione rifalla Ale devi sfruttare la parabola esatto vieni su veloce vai via lungo rifalla che la fai con la tua io ti sto proprio piano prova lui si no ma noi non potevamo neanche c'erano le piante no cazzo era impossibile prova Ale devi stringere devi stare largo tanto adesso la prima volta nomina il Fausto la prima volta che viene giù il Fausto che lui tiene sempre il culo tira giù tutta la terra dentro lì tutta cazzo lo portiamo sempre là un asfaltatore della madonna cazzo va che è spettacolo diventa cimeno esatto cazzo spettacolo fallo fallo dall'alto scendi così fai la riga e poi la rifai a salire anche questo dove andrò via che non sono bucati si ma che lui viene su lì che cazzo sei Ale nota guarda dove è passato qua in alto neanche dentro nella cosa e che ha fatto in alto se stava dentro prendeva ancora più più voletta aveva giù i piedi anche tu figurati Ale che moto che moto qua adesso parte gli scherzi qua fa la differenza si si su quelle cose qua esagerata fa la differenza poi in due tempi qua devi essere un manico lui viene su ma che lui fa come la nostra è uguale c'è la stessa attrazione cazzo adesso si perché lì non c'è più quella pianta lì di merda vogliamo provare Luca fa il giro fa il giro e scendi gas Vito gas no sei stato troppo alto e non hai gasato vai giù la fino a lì un pezzo vai giù fino a dopo la pianta e riprova stai dentro Vito stai lì dove sei adesso ma cosa c'è qua è una radice è una radice quella vedi che è una sfaltatoria della miseria figaro spettacolo gli altri gli altri non lo fanno mica del lavoro lì non preparano la zona stai qua eh qua bravo e chi è e allora cosa continuate che non si fa non si va non si dì non si cì non ci pì cicciaroni perché se no in strada non lo sento vedi perché la mia telecamera si sente bene perché c'è spampi che grida